Non si è iniziato con un punto di ordine, che mi ha detto che ci sono un gruppo di gremio che non vogliono ascoltare, non vogliono ascoltare. E ho visto che parte della parte della parte dei fraccioni di AVP non ha fatto una sufficiente opportunità, solamente ha fatto una opportunità del nostro leader di fraccione, ma poi sono due miembili che sono treze anni, ma il presidente di Raon, Serra e Bota Vista è parte di inna, e ho cominciato la riunione, quindi il suo marzo di Maduro, il comizio di Papio, che mi ha detto che il ministro del governo è arrivato al Parlamento, quindi non c'è nulla di vista. E l'altra cosa è che la riunione è cominciare un articolato, quindi questo è contro il articolo 26 del nostro regolamento di ordine, ma in un momento in cui vi passare ora, e in un momento in cui vi rendere la riunione, quindi torniamoci a me back. Sin embargo, non c'è nessun messaggio, e è ancora via, ma in ogni caso, ma in ogni caso, la nostra riunione non ha valore, perché la riunione è una dittatura del Parlamento, e la riunione è la riunione, e qui vi passare ora, c'è un attraco, a trovare la riunione dei nostri cittadini, è una forma per chica, una placa che non c'è più di nostri cittadini, nel momento in cui vi rendere la riunione, non c'è nulla, BBO, BACATV, e se vi conto, tutto il governo che ha in entrato, tutto in differenza di mani che ci sono in più di 1.1 milioni, ma è più di più che il governo che ha in entrato. Quindi ora si dice, dove è stato? Se non ci sono un po' di più, quindi il po' di più stagione, dove è stato? Qui è stato? Quindi, al contrario, nel tempo che aveva in governazione, abbiamo diversi progetti. non ho qui. Dice che non vai contestare, non ti vai tirare la cosita, o ti megadeve, e sa qui e saia. Sin embargo, nel momento qui, c'è un hobby, c'è un'obiettivo che si è un'obiettivo, c'è un'obiettivo che si è un'obiettivo, per scorrere per cada via che è un'obiettivo, se c'è un'obiettivo, non c'è un'obiettivo che si è un'obiettivo che si è un'obiettivo. E d'ora e sei, a ruba è acaba connesso per un'inflazione, per poter comprare un'obiettivo a barra drasticamente, e prestano a subire, e a torta che d'avisa che sa qui è un'obiettivo, se potenere un'obiettivo che si è un'obiettivo, sa qui è un'obiettivo, e a torta che d'avisa non ci sono in conversione con il turismo, non ci sono un'obiettivo che il nostro turismo lo va affectare, il prodotto turistico lo va affectare, e in un momento non può competire con altri paesi che si è un'obiettivo che si è un'obiettivo, che ci sono anche persone che si è un'obiettivo, che ci sono più pobretti in nostra comunità, non mi potete mencione di fare un'obiettivo che in un momento qui è un'obiettivo che è un'obiettivo più lungo, che non mi potete mencione, ma perchè ci sono che il nostro popolo non ci sono più non ci sono più di arcano Grazie a tutti